Le nausee della terza gravidanza sono passate, la duchessa di Cambridge partecipa, a sorpresa, a un evento a Londra. E balla con l'orso Paddington, in un abito rosa. Che fa fantasticare i su di Tuna Kate Middleton a sorridente e ballerina si è presentata alla stazione di Paddington, a Londra. Le nausee mattutine sembrano ormai essere passate, la duchessa di Cambridge è di nuovo alle prese con i consueti impegni reali. Ed è di ottimo umore, in attesa dell'arrivo del terzo figlio che, secondo i ben informati, verrà al mondo nell'aprile 2018. Così il secondo impegno pubblico, dopo l'annuncio della terza gravidanza, è al fianco del marito William e del cognato Harry.i3. Nell'ambito di un'iniziativa benefica del Charities Forum, sono saliti su un vagone d'epoca insieme a 130 bambini. E hanno incontrato il famoso orso Paddington e il resto del cast, in vista dell'uscita al cinema del secondo capitolo della saga dal prossimo 9 novembre, NDR. La presenza di Kate non era stata annunciata, è stata una sorpresa per tutti. Punto anche per il famoso orso britannico che l'ha invitata a ballare, sotto gli occhi divertiti dei principi. E la mamma di due, George, quattro anni, e Charlotte, due, non si è tirata indietro. Kate, per l'occasione, ha sfoggiato un abito rosa, firmato orla chieli, e i bookmaker sono impazziti. C'è, infatti, chi ha letto nel suo abbigliamento un indizio riguardo al sesso del bebe in arrivo. In tal caso, i nomi più gettonati per i sudditi britannici sarebbero su Alice 8-1, Elizabeth 10-1 e Victoria. E l'erede al trono, Baby George, potrebbe ritrovarsi beato tra le donne. La secondogenita Charlotte, invece, potrebbe contare su un'alleata. I due anni e mezzo di differenza potrebbero accentuare il normale legame tra sorelle, come è stato per Kate e Pippa, la prima nata nel gennaio 1982, l'altra nel settembre 1983. Ma è ancora presto per scoprirlo.